Sono un po' emozionato perché ho incontrato tanti amici di un tempo che fu, erano tempi belli. Adesso io ti dirò che io ho suonato sul palco 57 anni, ho iniziato 15 anni e ho finito tre anni fa la carriera. Il maestro Carlo Baiardi ci fa ascoltare ora un brano che è stato il cavallo di battaglia della sua carriera, il valser intitolato Crepuscolo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.